Ci sono baci che vanno dati, persone che vanno abbracciate, parole che vanno dette, follie che vanno fatte. La vita va veloce e a volte può essere davvero troppo breve. Non c'è tempo per pensare, non c'è tempo per andare piano, non c'è tempo per programmare. Le cose cambiano, le persone muoiono, l'orologio non smette mai di camminare. Non si tratta di cogliere l'attimo, ma di poter morire oggi, domani o fra cent'anni, dicendo, ho fatto tutto, anche quello di cui avevo paura. Grazie a tutti.